Bentornati. Presumo possiate avere alcune domande o commenti sulla lettura precedente. Alla fine di questa condividerò con voi un contatto tramite il quale potremmo scambiarci dei messaggi. Allora, senza indugi, passiamo alla nuova lettura che sarà dedicata ai Large Language Models in Medicina. Allora, innanzitutto, poiché i Large Language Models sono l'elemento che sta riportando in auge il grande interesse pubblico per l'intelligenza artificiale, vorrei condividere con voi un po' di terminologia, quantomeno nell'accezione in cui mi riferirò io. L'intelligenza artificiale, dal mio punto di vista, sono tutti quei sistemi che mimano l'intelligenza e il comportamento di umani o di altre entità viventi, dando un'impressione di agency e di capacità di portare avanti problem solving rilevante a un determinato contesto di operazione. Sono parte di questo strumento, di questa famiglia, gli strumenti di machine learning. Il machine learning sono invece delle tecniche computazionali, tecnologie computazionali, in grado di apprendere dei dati, di incorporare dei pattern dai dati senza ricevere complicate istruzioni di dettaglio e capaci di restituire un comportamento coerente con le dinamiche apprese. Di tutti questi strumenti una nicchia particolare è il deep learning, che sono delle tecnologie specifiche per svolgere machine learning ispirate più o meno direttamente alle nostre conoscenze di neuroscienze. Oggi si potrebbe addirittura affermare il contrario, che il progresso negli esperimenti di deep learning sta dando delle idee nuove alle neuroscienze, ma essenzialmente una evoluzione delle reti neurali artificiali degli anni 60 semplicemente rese più potenti dalla disponibilità di risorse computazionali di dati che permettono di incorporare milioni di neuroni virtuali organizzati in decine, centinaia, migliaia di strati. Ciò detto, veniamo alla materia di cui parleremo oggi. Inizierei con alcuni cenni storici sul deep learning, specificamente di cui i large language model fanno parte. Come accennavo già, in realtà il machine learning non è nato esattamente qualche anno fa con i modelli di cui tutti abbiamo letto sulle viste e sui giornali, ma hanno radici addirittura negli anni 50 del secolo scorso, quando i primi modelli di percettrone, di neurone computazionale, sono stati ipotizzati e sviluppati. All'epoca non si trattava altro che di elementi molto semplici, capaci di svolgere un fitting su una funzione elementare, solitamente una logistica, una sigmoide, e capaci poi di trasferire il risultato di questa operazione, pesato tramite prodotto contro un fattore che poteva essere modificato da un algoritmo di apprendimento, al percettrone successivo, avendo quindi un layer di input, un certo numero, molto limitato solitamente, di layer nascosti, e un layer di output. Questi modelli iniziali, queste prime esperienze, produssero tantissima eccitazione, giustamente, dimostrando una elevata capacità di riprodurre statistiche, solitamente portate avanti da esperti, ma erano inevitabilmente limitate dall'accesso alle risorse computazionali dell'epoca. E' però notevole considerare che, per esempio, l'ancestor, l'antenato dei Large Language Models, ELISA, era già esistita, era già disponibile nei primi anni 70, tra gli anni 60 e gli anni 70. Dopo questo primo entusiasmo, la mancanza di scalabilità, la mancanza di applicazioni industriali competitive, causò quello che potremmo chiamare un primo inverno, che vide un calo dell'interesse generale del pubblico, ma durante il quale si svilupparono nuove correnti nell'intelligenza artificiale e si cominciò a lavorare più seriamente agli algoritmi di apprendimento sviluppando una serie di soluzioni alternative ponendo enfasi sulle strategie di ottimizzazione delle connessioni nell'apprendimento. Questo fenomeno portò a una nuova primavera, ma nuovamente, tranne per addetti ai lavori, poche furono le applicazioni pratiche. Di nuovo, teniamo presente l'epoca, parliamo dei computer, delle architetture 386 direi, non 286 e 386, chiaramente non c'era una enorme potenza di calcolo disponibile, perché una memoria RAM poteva essere di pochi megabyte, non ci fu un'applicazione pratica utile. Nuovo inverno, e verso la seconda metà degli anni 90 e l'inizio dell'uomo millennio, nuovo tsunami di interesse, si comincia a parlare delle prime Deep Neural Network, esplosione delle architetture di Deep Learning, Convolutional Neural Network, i risultati di Watson nella famosa competizione televisiva americana, AlphaGo, più o meno tutti, e da questo momento in poi dovremmo essere aggiornati con le notizie, un periodo cambriano di diversificazione e di grandi successi, che ancora adesso non ha visto un nuovo inverno e potrebbe benissimo non vederlo. Questa diapositiva più o meno riassume lo stesso periodo storico, offrendo alcuni riferimenti bibliografici e soprattutto mostrando con questo gradiente di colori come piano piano verso il nuovo millennio queste tecnologie abbiano attirato anche l'interesse del pubblico generale. Oggi non è difficile trovare delle applicazioni per smartphone che usano Machine Learning e Deep Learning per ottimizzare le fotografie e i telefonini di fascia alta hanno dei coprocessori dedicati all'ottimizzazione delle reti neurali. Perché, ci si potrebbe chiedere, c'è stata questa esplosione nel XXI secolo, l'ho implicitamente anticipato precedentemente, essenzialmente disponibilità di grandi capacità di computazione che prima non erano disponibili, parzialmente trascinate da alcune industrie specificamente, tra cui l'industria del gaming. La diffusione di questi hardware, di queste risorse ha fatto sì che si cominciassero anche ad accumulare dati sempre più proattivamente, si comincia a parlare di big data, nascono le varie definizioni dalle 4V in poi ed essenzialmente inizia quel fenomeno di esplosione della data analytics che assieme al Machine Learning farà sì che molti giornali parlino dei dati come se fossero il nuovo petrolio, cosa su cui non commenterò in questa lettura, ma non sono d'accordo e c'è molta letteratura sul perché questa cosa non sia vera. Ovviamente non sarebbe questo sufficiente a farci parlare oggi di large language models in medicina, ma in parallelo ci sono state delle importanti evoluzioni nel settore biomedico che hanno fatto sì che cambiasse la pratica e la percezione della medicina e che a sua volta si venisse incontro a una cultura del dato e dell'algoritmicità dell'azione medica. La chiameremo affermazione della compliance in realtà probabilmente non è un'espressione correttissima quantomeno non mi soddisfa appieno ma vorrei che catturasse questo cambiamento di equilibrio nella tensione tra la responsabilità e l'accountability. L'accountability è la garanzia di un certo risultato, la responsabilità è la garanzia di aver preso le decisioni giuste in base a un certo contesto. La differenza è sottile ma è piuttosto importante come potrebbero argomentare meglio dei lettori di estrazione della Corte dei Conti. ci sono comunque dei testi potrei citarvi e raccomandarvi anzi la lettura se riuscite a trovarlo in formato elettronico probabilmente del testo che ha proprio nel titolo le parole accountability e responsibility dell'avvocato professor Gabriele Cipriani ma perché l'affermazione della compliance? perché negli anni dai 70 in poi con la penetrazione in ambito biomedico sempre più importante delle tecnologie derivate dalla fisica e dalla chimica dalle scienze di base la patologia come disciplina fa uno scatto in avanti di fatto sostituisce lentamente forse o forse molto rapidamente considerati i secoli di tradizione medica la tradizione clinica con una nuova tradizione di patologia in cui l'obiettivo è il più rapidamente possibile giungere a formulare una diagnosi eziologica possibilmente molecolare o cellulare che poi faccia da fondamenta a tutto l'impianto prognostico clinico che ne seguirà questi sono anni questi gli anni 70 e gli anni 80 anni importantissimi in cui si affermano le procedure di qualità di standardizzazione tra i laboratori c'è tantissimo da leggere sull'argomento il paper che io faccio vedere in questa diapositiva è solo un suggerimento per iniziare quello che è più importante è che sono questi gli anni gli anni 80-90 in cui nasce quella che oggi tutti noi conosciamo l'evidence based medicine l'evidence based medicine che è stata rivista e rimaneggiata lievemente nel corso dei decenni recenti ma che nella sua natura resta la pratica della medicina fondata sull'incontro tra le migliori evidenze di ricerca disponibili le preferenze e le esperienze del paziente e l'expertise del clinico inutile dire che nel corso del tempo le evidenze di ricerca sono cresciute grazie appunto all'avanzamento delle metodologie di laboratorio di cui parlavamo da poco e hanno assunto un'importanza preponderante andando a contribuire alla scrittura di linee guida specialistiche per patologia che ormai esistono per la maggior parte delle patologie comuni perlomeno ricordiamoci come dicevo nella lettura precedente ci sono oltre 30.000 patologie note ma la stragrande maggioranza sono patologie che potremmo classificare rare per queste è difficile che esista un'abbondanza di evidenze tali da poter avere un consenso della comunità e delle linee guida però per tutte le patologie più comuni che poi nella frequenza della presentazione clinica sono quelle preponderanti invece abbiamo un'abbondanza di linee guida in alcuni casi l'affermazione della compliance si consolida in Italia in particolare con la legge Bianco-Gelli che sancisce per chiarire l'iter di identificazione delle responsabilità legate all'atto medico che la responsabilità deve essere commensurata all' aderenza del clinico alle linee guida rilevanti qualora esistano questo è molto interessante perché di fatto rende possibile in un certo senso ancorare l'identificazione di una condizione alla catena di decisioni che devono avvenire successivamente e ciò crea un terreno fertile per l'applicazione delle soluzioni algoritmiche e quindi anche del deep learning dei large language models all'ambito medico-clinico perché ci interessano i large language models i large language models ci interessano in particolare perché dopo anni di applicazioni che al limite potrei osare definire perfino frustranti del natural language processing chi non ha utilizzato sistemi di traduzione online ottenendo traduzioni un pochino zoppicanti o addirittura traduzioni le quali una volta copiate e rincollate perché fossero tradotte a ritroso nella lingua d'origine non restituivano la frase da cui si era partiti come in una sorta di telefono senza fili improvvisamente tra i tre e i quattro anni fa hanno visto una esplosione di risultati grazie alla adozione di alcune alcuni accorgimenti tecnici appartenenti alla famiglia del deep learning quindi parliamo di attenzione parliamo di tokenizzazione di grandissime basi di dati su cui fare apprendimento e il risultato è giunto all'attenzione di tutti quando potrei sbagliarmi io penso sia l'anno scorso ma potrebbero essere due anni fa sono diventati di dominio pubblico accessibili a chiunque semplicemente iscrivendosi attraverso un portale strumenti come chat gpt e bard e mezzimilia chat gpt lo nomino perché recentemente come visto in questo preprint che sto visualizzando nella diapositiva ha superato anche se onestamente stentatamente ha superato gli esami di abilitazione medica americani dimostrando la competenza linguistica se non altro la competenza nel rintracciamento di informazioni rilevanti di questi sistemi al punto che diversi autori hanno cominciato a speculare della possibilità di sostituire i medici nel rispondere alle domande più comuni dei pazienti oppure nel proporre che in realtà questi sistemi potessero sviluppare livelli di competenze tali da permettere ad altri professionisti di come dire acquisire nuove mansioni in ambito sanitario e chat GPT non è il solo quindi altri large language models sono riusciti a dimostrare livelli di competenze molto elevati in alcuni disegni sperimentali sono stati valutati da medici come equivalenti ad altri colleghi nel rispondere a quei siti specifici è quel che è interessante marginalmente ma non esageratamente più proni a fornire informazioni rischiose o fraintendibili ma teniamo presente che raggiungere livelli di correttezza di oltre il 95% pareggiando circa con i colleghi clinici nel rispondere a quei siti medici proposti su forum medici e raccolti per i fini del test è un risultato che fino a semplicemente quattro anni fa sarebbe stato impossibile per un sistema di machine learning di intelligenza artificiale e quindi è chiaro che ci sia stato un'ondata uno tsunami di interesse e che tuttora ci sia molta curiosità per questi sistemi qual è il segreto del loro successo uno dei segreti principali dei large language models è probabilmente il grokking il grokking è un fenomeno che avviene soltanto in network che siano più profondi di un solo layer questo è abbastanza facile essenzialmente prima di una certa soglia di allenamento i modelli che apprendono più rapidamente sono modelli piccoli leggeri questo ci dice che se abbiamo pochi dati a disposizione o poche dimensioni a disposizione verosimilmente ci conviene utilizzare un modello relativamente leggero e risparmiare energia ma superata una certa soglia che è genericamente piuttosto lontana dopo l'apparente plateau di apprendimento di ottimizzazione del nostro modello i modelli più grandi improvvisamente manifestano una improvvisa ottimizzazione e cominciano a guadagnare performance ad un ritmo che non è più raggiungibile dai modelli più piccoli questo fenomeno di cambiamento di fase è detto grokking è difficile spiegare in poche parole che cosa sia il grokking però c'è un certo consenso che sia una sorta di fenomeno di emergenza di generalizzazioni all'interno dei layer un pochino come se il nostro modello inizialmente cercasse di apprendere le traiettorie dei pianeti secondo il modello tolemaico limitandosi a fare un fitting dettagliato di tutte le loro posizioni ed improvvisamente a forza di ripetere le osservazioni da qualche parte in uno dei suoi layer in alcuni dei suoi layer da qualche parte nella sua architettura comparisse un modulo capace di fare il fit di questi dati su un modello semplificato come quello kepleriano e chiaramente questo improvvisamente semplifica le operazioni e soprattutto permette una generalizzazione ad osservazioni successive che garantisce la possibilità di un apprendimento ulteriore di una precisazione ulteriore ed ecco il cambiamento di fase il grokking c'è un certo consenso non è un fenomeno singolo all'interno di una rete di uno strumento di deep learning i fenomeni di grokking sono fenomeni ripetuti che avvengono in diversi momenti con una entità e un impatto non costante un pochino come quando aggiungendo della sabbia ad una montagnetta di sabbia ci sono dei piccoli smottamenti altre volte dei più grandi smottamenti appunto dei cambiamenti di fase nella distribuzione i large language models però nonostante tutto l'entusiasmo che attirano non ci hanno ancora sostituiti nella clinica e non hanno nemmeno onestamente dimostrato una penetrazione significativa un esempio molto interessante è l'esperienza di mi pare che si chiamasse Babylon in Inghilterra nel londinese che aveva lanciato un progetto per affiancare e poi sostituire i medici di medicina generale i general practitioner con un ecosistema di strumenti di deep learning e in realtà dopo aver fatto annunci di risultati mirabolanti quando è stato chiamato alla fredda prova dei numeri ha dimostrato di non aver ottenuto granché sul campo con delle stime anche piuttosto interessanti contrariamente all'opinione generale che immaginava i nostri colleghi medici di medicina generale impegnati principalmente a fare i burocrati l'esperienza di Babylon ha fatto sì che venisse annunciato che meno del 50% delle attività dei medici di medicina generale sono catturabili da uno strumento algoritmico perché molta parte della loro attività è una negoziazione tra la compliance del sistema sanitario e la realtà del singolo paziente e questo è tutt'altro che una procedura facilmente riproducibile i large language model poi hanno una serie di sfide tecniche specifiche per cui non si sono diffusi non è solo la natura della professione medica essere unica un esempio è la loro sensibilità a quello che si chiama il prompt il prompt altro non è che il il metodo tramite il quale si avvia una sessione di lavoro o si interagisce con le sessioni di lavoro di un large language model potremmo dire il modo in cui si chiede al large language model di fornirci di trovare produrre e fornirci dell'informazione i prompt pur richiedendo la stessa informazione possono ottenere risultati estremamente diversi in base alla strategia con cui sono formulati e a volte in base a piccole variazioni nella scelta dei termini ad esempio evitare denegazioni richiedere o meno che ci sia una spiegazione del procedimento tramite cui si è arrivati alla risposta e questo si chiama prompt engineering e chiaramente richiede una competenza e anche un impegno uno sforzo da parte dell'utente il che smaschera la non capacità all'indipendenza del sistema tecnologico con cui si ha che fare l'essere umano che ha bisogno di sfruttarlo deve diventare competente e deve diventare competente nel capire come cambiare la propria strategia anche nel singolo caso per verificare quanto importante sia la sensibilità rispetto al prompt della risposta che sta ottenendo e non è da tutti in sostanza non è da tutti e non è detto che sia un metodo efficiente perché è un carico di lavoro extra a quel punto che non necessariamente va a beneficio del paziente ma poi considerato che purtroppo come non è passato inosservato alle alle riviste e ai giornalisti alcuni di questi strumenti non sono esattamente definiamoli onesti questo non ha a che fare con un giudizio morale il modo in cui i large language models funzionano è che vengono associati dei token alle parole nei vari testi da cui il modello apprende vengono costruite delle reti di probabilità che associano i vari token in varie sequenze gli uni con gli altri essenzialmente il modello alla fine è semplicemente capace di indovinare con una certa competenza quale sarebbe il termine successivo data una sequenza di termini di un certo arbitraria insomma questa è una problematica che pare probabilisticamente enorme ma basta pensare a quanto è difficile trovare una sequenza di non so 20 basi all'interno del genoma umano se la sequenza diventa 20 basi arbitraria perché il genoma umano sono circa 3 miliardi di coppie di basi se non vado errato e tra queste ci sono alcune basi che sono coppie ripetute e similia quindi probabilmente il pool totale in cui esiste una varietà interessante ha un 15% in meno e chiaramente per i testi il fenomeno è simile dato un prompt di 20 parole 30 parole la probabilità con cui il testo può essere generato che risponda a questo a questo prompt è abbastanza elevata che si generi un testo unico e correlato al prompt dato ciò non di meno il modello in sé non ha in nessun momento avuto bisogno di fare delle delle estrapolazioni di validità dei propri claim o dei claim che leggeva ha semplicemente generato un modello di probabilità conosce ha estrapolato delle regole del linguaggio per cui sa che alcune parole non saranno mai una di seguità all'altra il che lo semplifica il suo lavoro nel limitare la quantità di testi possibili generabili in base a un prompt ma non ha valori di veridicità o di probabilità della veridicità di una certa affermazione e questo si riflette nel suo comportamento al punto che chat GPT in particolare ha anche senza una minima esitazione senza aver offerto agli utenti alcun segnale che questo stesse per avvenire fornito delle referenze bibliografiche false di fronte alla richiesta di referenze bibliografiche cosa che non è difficile perché posto che le referenze bibliografiche hanno tutte una certa struttura si impara che ci devono essere gli autori ci deve essere un titolo e ci deve essere qualcosa di strutturato come il nome della rivista la data il numero dell'issue le pagine eccetera eccetera un sistema di questo genere è più che capace di generare degli output realistici anche in quel senso e questo però è chiaramente un importante nemico dell'applicazione al dominio della medicina soprattutto laddove si pensi di utilizzarlo per sostituire un professionista o per supermanzionare un professionista ad un livello di responsabilità superiore alle sue competenze iniziali perché a quel punto il professionista si ritroverebbe nell'incapacità di valutare l'affidabilità e l'utilità dell'output ricevuto e allora se proviamo a valutare genericamente dall'alto l'intero settore che cosa possiamo imparare innanzitutto questa è probabilmente la cosa più importante il messaggio più importante nonostante tantissime pubblicazioni che anche su riviste scientifiche che parlano di machine learning deep learning large language models artificial intelligence e così via ogni volta che si va a fare delle meta-analisi e delle review di letteratura alla ricerca di evidenze purtroppo si scopre che si perdono ordini di grandezza rispetto al numero di articoli pubblicati sull'argomento nel selezionare solamente quelli che abbiano evidenze originali e se ne perdono ancora di più una volta che si vada a guardare quanti di questi hanno trattato i dati di addestramento e di test correttamente ovvero sia tenendoli separati fin dall'inizio e non utilizzando delle variazioni sul tema del dataset di addestramento per poi fare il test dimostrando quindi semplicemente delle performance di overfitting ma non validando i risultati del proprio addestramento e questo è un fattore molto importante perché parlando con i protagonisti industriali i fornitori delle aziende sanitarie si sente continuamente una lamentela che pare additare il settore medico e la sanità in particolare come colpevole di una certa inerzia nei confronti dell'innovazione di una certa incapacità di portare l'innovazione a terra nel settore biomedico ma è anche vero che uno dei pilastri dell'innovazione è la produzione di evidenze per poter comunicare efficacemente il valore di una novità a chi sia responsabile della governance e del procurement in un settore economico e ad oggi si può tranquillamente affermare che questo lavoro non stia venendo fatto e non stia venendo fatto adeguatamente da parte di chi vuole portare tecnologie di artificial intelligence machine learning o come o come le vogliate chiamare chiamatele nel settore biomedicale ed è una responsabilità mi permetto di dire di una certa gravità perché tantissime sono le risorse che vengono impegnate tanti sono i dati a cui le aziende e i ricercatori ottengono accesso per poter studiare testare i loro sistemi che non si producano evidenze originali ben strutturate tali da poter guidare una eventuale adozione è una vergogna senza mezzi termini poi esiste esistono dei problemi più pratici molti di questi strumenti vengono sviluppati per ragioni di proprietà intellettuale nella privacy di uffici in cui spesso lavorano computer scientist imprenditori e insomma squadre abbastanza chiuse e strane al dominio di applicazione questo fa sì che non sia possibile sempre valutare con competenza e obiettivamente i risultati anche quando positivi di questi strumenti è capitato ripetutamente che questi strumenti scoprissero delle scorciatoie per ottenere il risultato necessario invece di scoprire niente di particolarmente utile un esempio caratteristico è quello che vi mostro in cui si scoprì che un certo strumento applicato alla diagnosi del polmoniti interstiziali aveva semplicemente imparato a distinguere che le radiografie dei bambini tendevano a essere negative rispetto alle radiografie degli adulti e quindi in presenza di un di un torace di dimensioni più ridotte in proporzioni più ridotte la macchina intuiva che probabilmente si sarebbe trattato di un di un torace negativo questa storia non è particolarmente unica nel senso che esistono tanti episodi nella storia del machine learning in cui la macchina ha imparato a performare molto bene ma ha imparato a performare utilizzando dei trucchi legati ai bias introdotti nei dati questo studio era particolarmente divertente perché macchina è addestrata a riconoscere lupi e aschi che è un task di image analysis non facilissimo perché i due animali si somigliano abbastanza era diventata estremamente competente non fosse altro che la maggior parte delle foto dei lupi erano state scattate in ambienti selvatici e quelle degli aschi erano state scattate in ambienti urbani e umanizzati e la macchina aveva imparato molto rapidamente a riconoscere i background invece che riconoscere gli animali pur dando dei risultati eccellenti quindi fu tratta in inganno da poche immagini che i ricercatori impegnati nella sua valutazione dopo la pubblicazione dello studio identificarono utilizzarono subito per identificare il bias un altro problema molto importante è quello chiamiamola dell'epistemologia di questi modelli un po' come noi esseri umani non necessariamente impariamo tutti quanti le stesse cose di fronte a una serie di dati a una serie di esperienze ne parlavo nella nostra conversazione precedente quando ho citato quell'esperimento in cui le diverse squadre di ricercatori hanno analizzato gli stessi dati ottenendo dei risultati e delle narrative completamente diverse similmente per i modelli non è scontato che i modelli venendo ad incontrare di nuovo gli stessi dati imparino le stesse distribuzioni e gli stessi parametri questo però è particolarmente importante perché mentre noi esseri umani facciamo parte di un circuito in cui ci confrontiamo dobbiamo convincerci gli un gli altri e abbiamo linguaggi comuni e continuiamo ad apprendere costantemente il sistema ci mantiene in un circuito di apprendimento continuo le macchine il più delle volte anche se si parla sempre della loro capacità di apprendere continuamente dai dati sono lasciate un po' a se stesse cioè posto che adottiamo la macchina X per assisterci nella gestione dei pazienti confidiamo che la macchina X continui ad apprendere dei dati ma difficilmente la metteremo in un circuito in cui venga valutata e paragonata con altre macchine e con altri colleghi costantemente perché si possa continuare anche ad identificarne gli errori e a correggerli e questo è un problema non banale mi permetto di dire vi è poi il problema della della chiamiamola complessità la questo è collegato con l'affermazione della compliance della responsabilità sopra l'accountability di cui parlavamo prima l'utilizzo di sistemi di machine learning e di e questo peso dato ai dati e alla e all'oggettività tra virgolette dei dati si ricollega a quanto dicevo dei dati come prodotto costruttivo di una di una certa investigazione nella mia nella nostra conversazione precedente smaschera un certo oggettivismo nell'approccio alla medicina che male cattura la la realtà sociale in cui avviene la medicina i pazienti possono percepire in modo molto diverso la propria condizione possono percepire in modo molto diverso il successo rispetto a questa condizione il sistema sanitario stesso può percepire il successo in modo molto diverso in momenti diversi e in condizioni diverse e tutto questo è difficilmente catturato da un set di dati generale trattato come se fosse scaturito naturisticamente dall'ambiente un ultimo commento vale la pena farlo per quello che riguarda la sostenibilità questo si collega al mio commento sulla responsabilità della produzione delle evidenze è bello vedere tanto entusiasmo per le nuove tecnologie è bellissimo vedere tanto entusiasmo all'idea che si possa lavorare in modo più efficiente meglio per produrre un sistema più sostenibile per il futuro adottando le nuove tecnologie non produrre evidenze di buona qualità e continuare a sfruttare nuove architetture computazionali consumare energia per la computazione e i dati può non essere una buona pratica di sostenibilità digitale e questo report ci racconta che in effetti io qui ho preso solo due pagine ma il report è molto ricco che in effetti purtroppo la digitalizzazione non solo in sanità ma in generale nella pubblica amministrazione risolve molti meno problemi di quanti non prometta risolverne purtroppo a costi energetici significativi e raccomanda tra le altre cose di avere un approccio parsimonioso è governato da missioni specifiche non un'esplosione cambriana entusiastica perché non essendo a costo zero vivendo in un sistema di risorse finite come ci si insegna sempre in economia sanitaria beh questo vale anche per la digitalizzazione forse a maggior ragione non si deve andare a casaccio in tutte le direzioni senza valutare realmente il vantaggio allora cos'è che conta imparare tutto questo io spero di avervi dato una serie di spunti di riflessione di utilità generale ma chiaramente ci sono alcune cose a cui io tengo più che ad altre beh una delle prime cose è una riflessione sulla domanda perché improvvisamente anche l'amministrazione pubblica sia tanto interessata alla adozione di soluzioni per le quali poi in realtà come dicevo ci sono suggestioni di grande promessa ma non grandi evidenze convincenti di utilità uno degli argomenti più interessanti che ho visto citati dal future lab in particolare è che nella affermazione del dominio della responsabilità sull'accountabilità e quindi della compliance le organizzazioni hanno bisogno di difendersi da un eccesso di responsabilità tra virgolette e questi sistemi che paiono rendere oggettive le decisioni e le spersonalizzano sono un un metodo architettonico per creare una irresponsabilità organizzata cioè per allontanare la relazione tra gli agenti che prendono le decisioni e il il sistema e tutte le le sue responsabilità questo è chiaramente un elemento negativo non sono sicuro di poter sottoscrivere completamente questa diagnosi ma è sicuramente una riflessione abbastanza interessante ed è un ed è un argomento su cui si riflette anche in altri settori infatti uno degli altri un'altra riflessione è quella che non basta parlare di tecnologie digitali ma bisogna riflettere su come disegnare il sistema entro cui queste vanno inquadrate questa è una riflessione che sta avvenendo anche in ambiti disciplinari applicativi molto diversi io contribuisco a nome dell'Italia assieme a tanti altri colleghi ad un ad alcuni tavoli di lavoro della Nato Science and Technology Organization Human Factor and Medicine uno di questi l'HFM 330 se ricordo il numero correttamente fa riferimento al controllo umano dei sistemi autonomi e disegnare l'intero sistema affinché l'umano resti coinvolto nel nel sistema di decisione in modo significativo cioè non semplicemente in maniera tale che all'ultimo minuto in emergenza si veda passato il controllo del processo perché la macchina ha stabilito che non è in grado di decidere in modo confident abbandonando il controllo all'essere umano perché questa è una cosa in cui noi esseri umani non siamo particolarmente bravi e tra l'altro noi non dovremmo disegnare sistemi in cui l'essere umano è la ruota di scorta della macchina delle due io trovo che la nostra società sia fatta per gli esseri umani e anche nell'ambito lavorativo sia la macchina a lavorare per l'essere umano tendenzialmente allora mantenere delle buone pratiche qui identifico due dimensioni fondamentali ma non sono le uniche il tracking cioè la capacità di riuscire a tracciare e quindi spiegare di spiegare concatenare in modo logico la serie di eventi che all'interno della macchina stanno trasportando dall'input alla decisione in maniera tale che l'essere umano possa seguire e valutare questo percorso in termini di conseguenzialità e di validità e il tracing cioè la possibilità di all'interno del sistema ripercorrere il modo in cui la decisione è stata resa disponibile e tra quali decisioni disponibili sia stata offerta la scelta e in che modo queste decisioni potessero andare a vantaggio a detrimento di varie comunità ed eventualmente di vari soggetti coinvolti nella decisione è importante mantenere il patrimonio di queste informazioni nel sistema perché un uomo che debba interagire con una macchina si parla tanto della necessità di instillare fiducia nelle macchine per poterle introdurre sul mondo del lavoro ma non deve essere una fiducia cieca deve essere un sistema in cui l'essere umano è al centro e la macchina si guadagna la sua fiducia ma anche ha la responsabilità di una responsabilità che deve essere trasmessa tra l'altro in qualche modo ai direttori che hanno scelto la macchina e a chi la prodotta non può essere lasciata alla macchina nel vuoto come certa chiamiamo la giurisprudenza ma temo che fossero più commentatori che giurisprudenza hanno più volte proposto negli anni passati con l'argomento del donare personalità alla macchina e all'intelligenza artificiale e l'unico commento che posso fare è che il futuro è già qui noi viviamo in una condizione in cui esistono degli adiacent possible che si stanno realizzando in in diversa in cocktail di diversa composizione in tutto intorno a noi e potremmo fare un lavoro molto migliore nel nel cercare di imparare gli uni dagli altri dai nostri ritardi ma anche dalle esperienze di chi si è lanciato per primo e tutto sommato questo è molto in linea col motto europeo che dice che siamo uniti nella diversità proprio perché tutti noi portiamo contributi di futuri alternativi possibili da cui tutti quanti possiamo beneficiare nell'apprendere gli uni dagli altri di nuovo spero di avervi dato spunti interessanti e non avervi annoiati come vi avevo promesso ecco qui il contatto per potermi inviare domande e commenti io vi ringrazio per la vostra attenzione ringrazio di nuovo i colleghi e il professore Giovanni Rinaldi alla prossima arrivederci